Con un decreto dirigenziale del 18 dicembre 2018, pubblicato sul Burca Regione Campania il 24 dicembre scorso, è stato ammesso a finanziamento il progetto di riqualificazione dell'attuale bacino del porto turistico, primo lotto, lavori di ripristino dei fondali del porto di Agropoli, per un importo di quasi 3 milioni di euro. L'intervento consiste nell'operare l'escavo del bacino portuale, per aumentare il pescaggio delle imbarcazioni di circa 1,52 metri rispetto a quello attuale. Si tratta, spiegano il sindaco Adamo Coppola e l'assessore al porto Edemanio Eugenio Benevento, di un progetto che avevamo in mente da tempo e che costituisce una nota positiva per l'economia del nostro porto turistico. Un maggiore pescaggio equivarrà alla possibilità di ingresso all'interno dell'approdo di imbarcazioni di maggiori dimensioni rispetto a quelle che hanno avuto accesso fino ad oggi. Questo significa che il nostro porto, il più grande del Cilento e tra i più importanti di quelli presenti a sud di Salerno, diventerà appetibile anche per chi in passato era costretto a scegliere altre mete per problemi di pescaggio dei propri natanti. Ringraziamo, concludono Franco Alfieri per l'impegno profuso a sostenere questa causa. È stata inoltre finanziata la progettazione, fino all'esecutivo, del rinnovo completo di tutta l'area portuale.